Romina Power si scaglia contro il Green Pass, niente treni per i non vaccinati Romina Power continua ad essere molto amata dal suo pubblico, che non ha mai dimenticato i suoi grandi successi e la sua tenacia Al giorno d'oggi, la cantante continua a tenersi in contatto con i suoi ammiratori tramite i profili social Sono in tanti a seguirle e a sostenere le battaglie che Romina porta avanti attraverso i media La Power, infatti, utilizza spesso Instagram per supportare progetti o semplicemente per informare i suoi follower sugli ultimi temi social Ultimamente l'attenzione del cantante si è spostata sul tema dei vaccini Non è una novità che Romina tenda a prendere posizione, a volte in modo molto deciso, su temi abbastanza controversi Solitamente le sue riflessioni sono affidate ai social, come in questo caso Nei giorni scorsi Power ha fortemente criticato le scelte del governo in merito alla vaccinazione, in particolare, al Green Pass Le dichiarazioni che il cantante ha rilasciato a riguardo hanno suscitato molto dibattito tra gli utenti del web La storia che Romina ha postato sul suo profilo Instagram e lascia poco all'immaginazione Power non crede che il Green Pass sia un metodo efficace per combattere il virus Queste le parole che il cantante ha affidato a Instagram I non vaccinati prendono il caffè in piedi al bancone o fuori dalla porta del bar I vaccinati prendono il caffè seduti e serviti dentro Poi tutti insieme prendiamo la metropolitana e andiamo a casa A presto!